Ultimi ritocchi alle scuole secondarie di secondo grado per garantire a tutti aule adeguate in cui fare lezione. La provincia ha stretto un nuovo accordo con il Comune di Prato per l'utilizzo totale dell'ex rodarino, il laboratorio didattico scientifico Margherita H. della scuola media Boricchi al polo scolastico di Via Galcianese. Il primo accordo prevedeva l'uso parziale della struttura pari a sei aule, ma le scuole superiori pratesi quest'anno hanno registrato un boom di iscrizioni, 220 in più del 2018 per un totale di 11.300 studenti, a fronte di una scarsa pianificazione passata e così la provincia ha chiesto e ottenuto tutto l'immobile per un totale di 10 aule. Sarà il presidente Francesco Pugelli la prossima settimana a indicare con precisione la mappatura delle sistemazioni, ma indicativamente possiamo dire che qui approderanno gli studenti del liceo Livi e del Marconi. Quelli del liceo Brunelleschi di Montemurlo anche quest'anno emigreranno a Prato per occupare una decina di aule al Marconcino. Gli studenti del Dagomare si sposteranno invece di pochi metri e anche quest'anno saranno al centro ventrone. Come si vede si tratta di quattro soluzioni provvisorie. La provincia sta lavorando per dare delle risposte più strutturate e funzionali per l'anno scolastico 2020-2021. Tra queste c'è la già annunciata sede distaccata del liceo Brunelleschi che sorgirà sopra il distretto sanitario di Montemurlo a pochi passi dalla sede centrale. L'altra novità riguarda il polo scolastico di Via Reggiana. Il presidente Pugelli ha creato un gruppo tecnico di lavoro per costruire 10 aule e relativi servizi nei pressi di quest'area scolastica utilizzando moduli prefabbricati. Il luogo individuato è quello vicino al Gramsci Keynes, direzione Parco Prato, ma ancora non ci sono certezze.